buongiorno ragazzi benvenuti nel canale ben rivisti ben ritrovati oggi non mi chiedete il giorno perché non lo so solo che sabato credo intorno al 13 qualcosa del genere di gennaio 2024 siamo scesi in basso a controllare lo stato delle scorte c'è un bel volo a dire il vero ma fuori ci sono intorno 89 gradi però diciamo che le api comunque sono le 14 qualcosa le api volino e questo è importante solo una cosa devo fare perché ho un impegno con due care nostre amiche benedetta aurora siccome io allora ci tengo tanto perché amano tantissimo le api allora abbiamo privilegiato un'arnia loro ci stanno aiutando quindi io non posso fare altro cara benedetta d'aurora posso solo aprire il coperchio un attimino controllare da sopra se le api sono vive sono vive sto sicuro vediamo quante api ci sono come sta da sopra un attimino la famiglia perché poi io metterò sopra un panetto di candito no di nutrizione che abbiamo fatto a casa e le lasceremo sta per un altro mese più o meno quindi adesso io alzo il coperchio le vediamo insieme un attimino non gli facciamo prendere freddo perché qua come vedete come vedi come vedete cara benedetta cara aurora cara giovanni e basta un grado in meno e siamo sotto il limite possibile anche per aprire nel frattempo è passato un bel calabrone loro già sono in movimento e questo vabbè abbiamo le trappole vedremo un po di prepararle il prima possibile perché sembra che loro già qua qua c'è un bel bosco i niti ci sono tanti e girano allora apriamo benedetta aurora che facciamo 1 2 e 3 e voilà il gioco è fatto come potete vedere cari amiche nostre le api stanno in perfetta salute questa è una delle migliori famiglie che abbiamo nel nostro apiario veramente perché le api sono di una docilità incredibile è una genetica che a me è piaciuta fin dall'inizio sin dall'inizio per questo ho voluto dedicarla a voi questa allora le richiudo un secondo preparo un panetto di candito da mettergli sopra e le chiudo di nuovo quindi per loro avranno comunque hanno tante scorte però per sicurezza noi le manteniamo con un po di riserva in più affinché quando arriverà la metà di febbraio fra una mesata che ci sarà una ampia covata loro abbiano comunque a disposizione il loro nutrimento anche se qua intorno avremo già qualche piccola fioritura va bene io la chiudo vi mando un caro saluto un abbraccione e ci vediamo presto presto verremo insieme ad aprire ciao